Io credo che il confronto di oggi sia stato molto costruttivo, molto utile. Molto importante è la presenza di competenze diversificate dal mondo accademico a quello delle imprese. Si è parlato di intelligenza artificiale, si è parlato di digitalizzazione, si è parlato di identità digitale, però siamo riusciti, credo bene, a collegarlo a temi di grande attualità come la transizione ecologica e digitale e come la transizione energetica, che è un tema fra l'altro strettamente correlato all'applicazione dell'intelligenza artificiale che come è noto prevede sistemi molto energivori. Credo che questo tipo di confronto sia utile soprattutto se dà luogo a degli approfondimenti tematici e tecnici come d'altro canto il presidente di CEO4Life ha proposto.